Fai una cosa, una piccata, accucciati giù e entra nella telecamera così, bravo, e guardalo, e fai tipo una piccata e scappi via verso destra, vado? Sì, vai, ma alzati su, vieni su, bravo, aspettavo, ma non guardare verso la telecamera, rifallo, te poi cifre quando è passato, raccogli da terra, smadonna glielmo che l'ha tirati, ma da paura, perfetto, regalo, è una bomba, c***o, vai, il contrario, c***o, esatto, esatto, c***o, sarà pure una donna, è un razzofo allo, è un po' di mezza, c***o, è un po' di mezza, c***o, è un po' di mezza, No, l'ho già fatto a fare due grandi mesi. Allora, prendila come l'hai presa prima la cosa. Io la prendo con due mani e mi metto così. Perfetto, così è perfetto. Ripallo essenzialmente e va benissimo. Vai, sto già riprendendo. Fa poco confinto. Fiamo più felice delle cose. Sì. Vai. Guarda. Vero? È bello. Sei pronto per la prestazione? Sei già... Sempre pronto. Grande. Nata pronta. È bello. È bello. Allora, vai, azione. Comincia a fare lui. Quando senti che lui batte le mani, gli giri. Vai. Aspetta. Vai, aspetta ancora. No, vai, se vuoi, passa adesso. Passa, che poi facciamo... Mi devo girare. Ah, mi devo girare. Oddio, c***o. Mamma mia. Adesso pure io ho sbagliato a battere. Vai. Allora, mi giro. Io do questa. Mi rigiro. Perché ci avevi quelli in mano? No. Questi qua, ma lo posso fare così? C***o. Andiamo verso la macchina e fa augurare la sposa. No. Hai rifatti? No. Andi auguri. Auguri. Andi 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 auguri. Io li sto sdraiando su cocci di vetro. Ce l'abbiamo assicurazione per le riprese, sì? E' proprio certo. Marco. Esatto. Marco. Esatto. Marco. Marco. Sdolo sottato in testa la razza. Sdolo. Adesso. Sdolo. Sdolo. Mi raccomando sempre il casco in testa, non fate cascate.